Marco Travaglio, come dobbiamo valutare questo scambio di battute un po' velenose tra Renzi e il Presidente del Consiglio? Perché dopo che Renzi l'ha attaccato sull'IVA, sul cuno fiscale, Conte ha detto non abbiamo bisogno di fenomeni in TV. Poi in serata il Presidente dei senatori del Partito Democratico, Marcucci, che è un fedelissimo renziano ma è rimasto nel PD, ha detto che da Conte ci vogliono soluzioni e che non deve alimentare polemiche. Se questo è l'inizio, come faranno ad andare avanti? Insomma, accusare Conte di alimentare polemiche mi sembra abbastanza comico. In questi giorni non passa, non dico giorno, ma ora senza che Renzi non faccia l'imbucato. Come diceva Montanelli di altri personaggi è uno che ai funerali vorrebbe essere il morto, ai matrimoni vorrebbe essere la sposa. Cerca visibilità dappertutto, si imbuca dappertutto, si intesta norme non sue. Questa polemica che ha fatto sull'aumento dell'IVA è semplicemente assurda, perché ha consentito a Salvini e al centro-destra di raccontare che il governo voleva aumentare l'IVA, mentre non è mai stato all'ordine del giorno di aumentare l'IVA. Semmai si era pensato di recuperare un po' di soldi per i lavoratori per ridurre quello che orrendamente viene chiamato il cuneo fiscale, cioè le tasse sui lavoratori, e mettere un po' più di soldi nella busta paga della gente, applicando un 1% in più di IVA a quelli che pagano in maniera non tracciabile, cioè che pagano in contanti e quindi vanno a alimentare l'economia al nero e danneggiano la lotta all'evasione fiscale. Dopodiché si è scoperto che non era vero che si voleva aumentare l'IVA e lui ha detto che è merito mio se non si aumenta l'IVA. Poi oggi ha detto che il cuneo fiscale viene ridotto di troppo poco, ma è lui che si è impuntato per evitare che si raggiungessero 5 miliardi di tesoretto proprio con quella clausoletta che penalizzava i pagamenti di contanti, quindi dopo aver tolto il tesoro a chi voleva ridurre il cuneo fiscale adesso si lamenta perché il cuneo fiscale è senza soldi. E' veramente imbarazzante questo personaggio, se lo fa soltanto per nascondere lo scandalo Consip che riguarda familiari e amici suoi o lo fa per finire sui giornali tutti i giorni e cercare di salire un po' nei sondaggi, finito l'effetto novità finirà anche questo. Se invece vuole destabilizzare quotidianamente il governo credo che giustamente sia preoccupato il Presidente del Consiglio e anche Enrico Letta che oggi ha detto guardate che durate poco. E' dalla campagna referendaria almeno che Renzi ha perso completamente contatto con la realtà, per cui è sfasato, è come se vivesse in una campana di vetro e non sentisse quello che si muove nel Paese. Non si rende conto che in questo momento gli urlatori e i guastatori e gli sfasciacarrozze infastidiscono la gente. La gente vuole sentire delle cose, vuole sapere che cosa sta facendo il governo, non gliene frega niente se è una normetta la chiesta Tizio, la chiesta Caio. Tra l'altro siamo ancora nella sabbia più totale perché quello che è stato presentato è un preambolo di quella che dovrà essere la legge di bilancio, quindi non sono delle norme che vanno in vigore domani mattina. E questo continua a affannarsi, a intestarsi questo o quell'altro merito per un partito che non esiste, che nei sondaggi è dato al 3%, 4% e che non si candiderà alle elezioni amministrative perché sa benissimo che sarebbe irrilevante. E' semplicemente un rumore di fondo, non gli porterà nulla. Io credo nemmeno nel breve termine, non solo nel lungo termine. La gente vuole sapere che cosa fanno sulla giustizia, sulla prescrizione, sulle tasse, sapere che cosa ha detto Renzi o che cosa ha impedito Renzi. Non importa niente a nessuno. E questo giochino ha già portato male a Salvini che guastando un governo che poteva piacere o non piacere ma comunque stava in piedi ed è esploso a ferragosto, sta continuando a vedere erodere i suoi consensi. Il modello Salvini in questa fase è perdente perché la gente vuole sentire costruire qualcosa e vuole sapere che cosa si fa per le persone e vede che c'è Conte che sta cercando di tenere insieme questa gabbia di matti e poi ci sono dei matti che ogni giorno si incaricano di mettergli un dito nell'occhio. Poi l'apoteosi è quella che dicevi tu, Marcucci che accusa Conte di destabilizzare il governo. Ora, tutto si può dire di Conte ma onestamente che sia un destabilizzatore o un incendiario potrebbe venire in mente sulla Marcucci.